Una buona giornata, buon lunedì e benvenuti a questa prima edizione del nostro telegiornale che ovviamente iniziamo dal Vax Day, giornata storica infatti quella di ieri all'ospedale Mazzini di Teramo dove sono state somministrate le prime 135 dosi di vaccino anti-covid destinate alla regione. Abruzzo in settimana arriveranno altre 2.500 dosi per la campagna a tappeto che inizierà il prossimo 4 gennaio, tutti particolari nel servizio di Tania, Bonnici, Castelli. Giornata storica, l'ospedale Mazzini di Teramo prescelto dalla regione Abruzzo come luogo di somministrazione per l'intero territorio regionale delle prime dosi del vaccino anti-covid-19, 135 per l'esattezza. Le fiale della Pfizer sono arrivate a Teramo scortate dall'esercito alle 8 di mattina e consegnate direttamente nelle mani del direttore generale dell'Asla Teramana Maurizio Di Giosia. Una giornata storica per l'Italia ma anche per Teramo? Una giornata storica per l'Italia, per l'Abruzzo e Teramo che ha avuto la fortuna che potesse rappresentare oggi l'Abruzzo. Ci sono tutte le istituzioni abruzzesi presenti, tutti i direttori generali, l'assessore, il capo dipartimento. Segno di un riconoscimento di apprezzare come noi stiamo lavorando, però dimostra pure che c'è una squadra unita di direzioni generali che vogliono portarci fuori, cerchiamo in tutti i mondi di portare fuori l'Abruzzo da questa pandemia. A queste 135 dosi iniziali se ne aggiungeranno presto 25.000 in arrivo in settimana in Abruzzo e che serviranno per dare l'avvio alla grande campagna di vaccinazione di massa prevista per il 4 gennaio. Il personale che effettuerà questi vaccini, lo avete riferito? È tutto a posto? È sufficiente? Per quanto riguarda questa prima fase nella quale saranno vaccinati prevalentemente gli operatori sanitari e sociosanitari o i residenti professionalmente impegnati nelle strutture ospedaliere, perché potremmo avere anche il personale amministrativo che risiede in un percorso ospedaliero assistenziale, noi utilizzeremo quasi sicuramente un modello a scacchiera, che significa che consegneremo le dosi ai singoli reparti e quindi nei reparti infermieri e medici faranno le somministrazioni. Questo ci darà una capacità espansiva di somministrazione. Il coordinamento di questa giornata storica è stata affidata al direttore sanitario dell'Asla di Teramo, Maurizio Brucchi, che preannuncia a grandi linee le modalità di vaccinazione. I primi a vaccinarsi saranno gli operatori sanitari. Per l'intera popolazione i vaccini saranno somministrati nei distretti sanitari di base e negli ospedali. Direttore, quali caratteristiche ha Teramo per essere stata scelta? Nessuna caratteristica in particolare, è stata una volontà della regione e delle altre alz che ci hanno voluto delegare questa attività. Noi ne siamo orgogliosi, ci sentiamo addosso il peso, ma anche l'onere di preparare questa giornata. È andata molto bene, siamo partiti bene. Ci sono stati i primi quattro testimoni all'uno per alz che sono vaccinati e adesso proseguiamo per tutta la giornata. Tre fasce, dieci e mezza, tredici e quindici e alla fine avremo vaccinato 135 persone di quattro asla. Ci saranno anche due anziani della casa di riposo che volontariamente hanno deciso di vaccinarsi come per gli altri e quindi niente. Una bella giornata, una giornata che resterà nella storia. Il primo abruzzese in assoluto a ricevere il vaccino anti-covid è stato Cosimo Napoletano, 68 anni, medico, direttore del Dipartimento Cardiologico dell'Asla di Teramo e presidente dell'Ordine dei Medici Provinciale. Primo vaccinato d'Abruzzo, come si sente? Io sto molto bene, speriamo che continuino a stare bene. Che esempio vuole dare con questo suggesto? Io penso che nel 2020 questo è il primo regalo che ci fa l'anno, quindi dobbiamo prenderlo bene e imparare anche cose che a volte dimentichiamo. E come avete sentito dovrebbero arrivare nelle prossime ore le prime dosi di vaccino anti-covid anche all'Asla di Pescara che poi partirà con le vaccinazioni al personale sanitario. Paolo Renzenti. Dottor Caponetti, lei è stato vaccinato proprio nella giornata di ieri a Teramo, vaccino anti-covid, le chiedo subito le impressioni, insomma è stata quella di ieri una giornata storica anche per la nostra regione? Sì, il vaccino si è fatto, è andato tutto bene, benissimo direi, io sto in forma, nessun problema se non un po' di fastidio se muovo il braccio, niente di particolare. Come vedete sto al lavoro come sempre, niente di particolare. Ieri sono arrivate i 130-135 vaccini che abbiamo utilizzato per tutta la regione. Poi adesso dovrebbero arrivare delle aliquide alle singole As per il personale sanitario, personale sanitario delle nostre strutture pubbliche, ma anche delle strutture accreditate, ma anche delle case di riposo, per un totale di circa, penso nel mese di gennaio, di circa 6.000 dosi. Dopo queste circa 6.000 operatori dovremmo pensare, cioè è già previsto che lo stile successivo è per gli ultraottantenni, così è scritto nel sito del Stato Superiore di Sanità e poi vedremo, poi andiamo ancora troppo lontani, vediamo di fare gennaio e poi a seguire. L'obiettivo è ambiziosissimo, da fare spavento, dovremmo vaccinare il 70% della popolazione almeno, quindi oltre 200.000 persone con un vaccino da ripetere, peraltro, quindi è un'impresa davvero straordinaria che sarà difficile da affrontare. Le cautele però devono restare sempre quelle, mascherina, distanziamento, lavaggio delle mani, perché ora è importante non mollare la presa? Assolutamente sì, in particolare nei prossimi mesi gennaio e febbraio, assolutamente, perché fa freddo, perché non possiamo aprire le finestre, perché il virus gira e sta interessando ancora tante persone e poi perché pensiamo che in particolare a gennaio ci sia una risalita del contagio, quindi assolutamente dobbiamo mantenere le solite note precauzioni. E a partire da oggi l'Abruzzo è nuovamente zona arancione, con i negozi aperti e lo rimarrà per i prossimi tre giorni. I commercianti chiedono di poter anticipare i saldi che sono in programma per il 7 gennaio. Da oggi l'Abruzzo, così come il resto d'Italia, è nuovamente zona arancione, in base al decreto natale allentate le restrizioni anti-covid, ma solo per tre giorni. Dal 31 dicembre infatti e fino all'Epifania, l'Italia sarà catapultata di nuovo in zona rossa, fatta eccezione per la breve parentesi del 4 gennaio, giorno in cui si tornerà a livello intermedio. E anche il commercio riparte a Mozichi e Bocconi, tentando in questi ultimi tre giorni di lavoro del 2020 di porre una toppa al grosso buco nei ricavi di dicembre. Dicembre è infatti il mese in cui le attività commerciali hanno più incassi. In soli 30 giorni generalmente si mette in cassa circa il 30% di ciò che si riesce a guadagnare in un intero anno, ma nell'anno della pandemia i fatturati sono stati dimezzati. I commercianti plaudono ad alcune iniziative messe in campo dal governo, ad esempio il cashback, che risarcisce del 10% i pagamenti effettuati con la carta di credito, un esperimento il cui obiettivo a lungo termine è quello di far sparire quanto più possibile il contante. Vi sono però anche dei bug nel sistema. I ristori promessi infatti vengono stimati confrontando il fatturato di quest'anno con quello dell'anno scorso, così da elargire la differenza, il che significa che chi ha aperto un'attività a gennaio 2020 non ha avuto diritto ad alcun tipo di indennizzo, ritrovandosi subito in mezzo alla tempesta ancora prima di salpare. E non tutti riescono a rimanere a galla. Secondo uno studio di un'impresa, mediamente tra aprile e settembre in Italia sono fallite ben 544 imprese ogni giorno. Nel terzo trimestre del 2020 l'Istat riporta un aumento del tasso di disoccupazione di oltre l'8% per un totale di 202.000 disoccupati in più. Molti si sono salvati dal fallimento esclusivamente grazie all'e-commerce che ha permesso di lavorare tramite web e consegne anche nei periodi di chiusura. I commercianti vogliono recuperare in questi tre giorni tramite gli sconti anticipando i saldi ufficialmente fissati al 7 di gennaio. Per farlo però occorrerà attendere presumibilmente in giornata il via libera da parte della regione. E questi tre giorni di zona arancione sono anche occasione per esercitare in parte le libertà personali. Rimane infatti il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Rimane anche il divieto di spostarsi da regione a regione e da comune a comune salvo che per comprovate esigenze di lavoro, salute o altra necessità. Ma perlomeno ci si può spostare liberamente all'interno del proprio comune di residenza seppure raccomandato se possibile rimanere a casa. Sono proseguiti anche ieri i controlli delle forze dell'ordine nel Terramano per il rispetto della normativa anti-covid. Ieri in un appartamento di Teramo la polizia ha scovato 8 minorenni, 6 le persone sanzionate in provincia. Nonostante un generalizzato rispetto nel Terramano delle vigenti disposizioni per l'area rossa in vigore fino a ieri nella nostra regione. Non è mancato ancora una volta tra i più giovani il disinteresse per la prevenzione del covid-19. Infatti nella serata di ieri alla sala operativa della questura di Teramo è arrivata la segnalazione di un solerte cittadino che ha segnalato la presenza di vari ragazzi all'interno di un appartamento attualmente non abitato nel centro di Teramo. Giunti sul posto i poliziotti hanno avuto modo di riscontrare la presenza di 8 giovani, tutti minorenni di età fra i 16 e i 17 anni che in grande allegria e privi di qualsiasi forma di prevenzione quale l'uso della mascherina stavano ripulendo l'abitazione per poterla utilizzare nella serata di Capodanno. In ambito provinciale poi sono state sanzionate dalla polizia di Stato 6 persone perché immotivatamente lasciavano la propria abitazione. Curiosa la giustificazione di due possessori di cani che con gli stessi si erano recati da Tortoreto ad Alba Adriatica che benché confinanti costituiscono comunque comuni diversi e altre due persone che hanno riferito agli agenti di doversi recare presso un noto negozio di materiale informatico ignorando evidentemente che lo stesso ieri era regolarmente chiuso. E non solo controlli Covid per le forze dell'ordine, anche Corona che allora siamo a Pescara perché nel pomeriggio di ieri la polizia ha proceduto al controllo di un individuo che alla vista degli operatori ha cercato di allontanarsi. L'uomo, 19enne di nazionalità albanese, è stato trovato in possesso di un pacchetto di sigarette con nascosti all'interno 12 involucri di cellofan contenenti pezzi di hashish del peso totale di 17,6 grammi. La perquisizione poi è stata estesa presso l'appartamento nel quale il 19enne dimora dove sono stati rinvenuti ulteriori 18 involucri contenenti un totale di poco più di 25 grammi di hashish, un bilancino elettronico e materiale per il confezionamento della sostanza. Dell'avvenuto arresto è stata data immediata notizia all'autorità giudiziaria che ne ha disposto la custodia presso il suo domicilio in attesa della convalida prevista per la giornata di oggi. A Francavilla invece ha cercato prima di investire un carabiniere poi di speronare l'auto dei militari e quando si è ritrovato chiuso in un angolo del parcheggio all'intimidazione di scendere il giovane è sceso dall'auto e ha iniziato a togliersi i vestiti per una eventuale colluttazione che avrebbe cercato di provocare in tutti i modi. Protagonista un 26enne proprio di Francavilla al mare che è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale e che oggi verrà processato per direttissima. Il 26enne stava parlando con un altro giovane nel parcheggio di un supermercato e alla vista dei carabinieri che si avvicinavano ha messo in moto l'auto di grossa cilindrata e ha cercato di proteggere la fuga dell'altro che nel frattempo è fuggito a piedi. A quel punto è scattato l'inseguimento di entrambi che si è concluso con l'arresto disposto dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti Lucia Campo. Il giovane era stato arrestato durante il primo lockdown per gli stessi reati e da allora ha l'obbligo di ferma alla stazione di Francavilla al mare ed è stato sanzionato più volte per la violazione della normativa anti-covid. Infine a Chieti dove è stata arrestata una 57enne originaria di Vasto, vecchia conoscenza delle forze dell'ordine di tutto l'Abruzzo per aver messo a segno colpi nelle province di Chieti, Teramo e Pescara. È stata arrestata su ordine della procura generale dell'Aquila dai carabinieri della stazione di Chieti principale. Un curriculum si fa per dire di tutto rispetto, quello accumulato dalla donna negli anni che l'ha portata più volte dietro le sbarre. Mercoledì, pochi giorni dopo il suo compleanno, l'autorità giudiziaria ha calcolato il periodo che dovrà scontare in carcere in ben sei anni, un mese e cinque giorni per episodi di usura verificatisi tra il 2016 e il 2019. Oltre a ciò, la donna aveva all'attivo già numerose truffe, arresti per spaccio di sostanze stupefacenti e furti, questi ultimi commessi per lo più in danno di persone anziane che erano il suo target preferito. In costante aumento gli infortuni sul lavoro correlati alla pandemia, soprattutto a novembre, a lanciare l'allarme è la CGL, il servizio di Giuseppe Dintino. La pandemia fa esplodere gli infortuni sul lavoro in Abruzzo. A dirlo è la CGL che ha registrato il costante aumento delle denunce di infortuni sul lavoro legati alla pandemia di pari passo all'aumento dei contagi. In ottobre in Abruzzo si era arrivati a 857 infortuni Covid, più 34% rispetto ai mesi precedenti. Il picco però si era aggiunto a novembre, più 74% con 634 denunce, arrivando così a un totale di 1491 casi. La provincia con i numeri più allarmanti è quella di Chieti, con 417 infortuni Covid, seguita da Pescara con 408, Teramo con 379 e l'Aquila con 287 casi. Ma proprio all'Aquila si è registrato il maggior aumento percentuale, 198 infortuni Covid solo a novembre, per un aumento del 222%. I lavoratori più esposti sono quelli della sanità, da cui arrivano tre denunce su quattro, circa il 10% poi arriva dal mondo terziario e dei servizi, quasi il 4% dalle professioni scientifiche e tecniche e l'1,6% dal settore manifatturiero. In Abruzzo coloro che sono morti, dopo essersi contagiati sul posto di lavoro, sono 12. Questi numeri che però riguardano solo coloro che hanno attivato la pratica Inail, invece di limitarsi a comunicare la semplice malattia IMS. Quest'ultimi infatti sono esclusi dal conteggio. Adesso apriamo la pagina dello sport e iniziamo dalla Serie B perché ieri il crollo del Pescara a Chiavari contro la Virtus Entella sconfitta per la formazione di Roberto Breda per 3-0 senza alcuna attenuante. Noi rivediamo il servizio della partita e poi le parole dei due tecnici, Roberto Breda da una parte e l'abruzzese Vincenzo Vivarini che coglie il primo successo dei Liguri in campionato. Vediamo. Panettone e Spumante vanno di traverso al Pescara che gioca la peggior partita stagionale resuscitando il fanalino di coda Virtus Entella, vittoriosa con merito per 3-0. In Liguria il Delfino perde male e con i risultati positivi di alcune delle dirette concorrenti ora torna a tremare. E mercoledì all'Adriatico ci sarà il Cosenza in uno spareggio salvezza da non fallire. Breda senza Memushai opta per Omeonga nel folto centrocampo a 5 in attacco. non c'è Seter ma Bocic al fianco di Galano. Il tecnico Ligure, l'abruzzese Vincenzo Vivarini ritrova alcuni indisponibili e risponde con il 4-3-1-2. Si parte con i padroni di casa in avanti con buona aggressività al cospetto di un Delfino che al diciassettesimo paga un brutto errore di Fiorillo che sbaglia il rinvio regalando palla a De Luca che serve Schenetti che con una conclusione chirurgica mette la palla in rete per il vantaggio della Virtus Entella. Peccato per l'errore dell'estremo difensore abruzzese quasi sempre il migliore e questa volta vittima di una amnesia. Sotto di una rete cerca di ripartire il Pescara che però al ventitresimo rischia la frittata con il pallone di Mancosu che termina al lato di un nulla. I biancazzurri cercano di reagire ma non sono mai pericolosi dalle parti di Russo con Maestro che al trentaduesimo va a commettere fallo in area abruzzese su De Luca e con il direttore di gara a Battista che assegna il penalty dagli undici metri lo stesso De Luca si fa respingere la prima conclusione dal portiere del Pescara prima del tapin vincente Virtus Entella 2 Pescara 0 e diventa così una montagna durissima da scalare quella ligure per i ragazzi di Breda con Bellanova che al trentatresimo in area dell'Entella ha una buona opportunità potenziale andando però a litigare con il pallone. Disastrosa fino a questo momento la prova dei biancazzurri al cospetto di una squadra reduce la Virtus Entella da sei sconfitte di fila. Alla trentanovesimo Fiorillo si riscatta su Schenetti respingendo un pallone insidioso e poco dopo si ripete su Mancosu evitando il tris dei padroni di casa. Rischia così di dilagare la squadra di Vivarini con i biancazzurri che sbandano vistosamente chiudendo sotto di due reti il primo tempo. Nella ripresa il Pescara in campo con Zita al posto di Scognamiglio e l'esordiente Blanuta per Bocic. Al secondo punizione dai 20 metri calciata da Galano con il pallone sopra la traversa. Riaffiorano i limiti della squadra di Breda incapace di tirare verso la porta avversaria. Al ventiseiesimo si fa male dopo una botta alla testa anche Jarosischi sostituito da Crecco. Trascorrono i minuti in una partita che sembra già chiusa con Maestro che si vede al ventitresimo con una conclusione di poco alta. Poco troppo poco nel match con l'ultima in classifica per il Pescara. Pescara che annaspa e che rischia anche al trentottesimo con Fiorillo che salva su De Luca. Al quarantunesimo arriva la prima parata del portiere di casa su punizione di Maestro dei 30 metri. Un minuto dopo ancora Maestro chiama al lavoro russo. Al novantatresimo in uno degli ultimi attacchi Biancazzurri chiosa difensore della Virtusentella. Tocca con il braccio in aria il pallone ma a Battista propende per la involontarietà. Prima del Tris firmato al novantacinquesimo minuto dal nevo entrato Cardoselli che in rovesciata fa 3 a 0. Per la Virtusentella arriva la prima vittoria della stagione. Per la squadra abruzzese una sconfitta con Figuraccia che deve far davvero riflettere. Se non mettiamo l'intensità, soprattutto mentale, su ogni pallone, su ogni giocata nostra, su ogni cosa, è logico che poi dopo diventa difficile. È un campo che sapevamo che poteva un po' complicarci la vita ma a maggior ragione doveva acuire l'attenzione. Invece abbiamo concesso subito un primo tempo, sembrava senza un'idea. Poi anche nel secondo tempo con un risultato che non era ancora compromesso perché se tu fai il 2-1 magari dovresti anche riaprire. Sul discorso di Milos l'idea era che loro giocano con una linea anche abbastanza alta e di avere un giocatore che andasse a attaccargli da profondità in maniera da creare spazi per Gara e per i nostri centrocampisti. Ma non è il discorso di Milos perché il ragazzo secondo me si è impegnato. Il problema è che se tutti noi il resto non lo facciamo come dobbiamo farlo, quello che provi, quello che hai in testa non vi è. Possiamo parlare di tattica, possiamo parlare di tecnica, possiamo parlare di tutto ma se non metti questo tipo di furore agonistico diventa difficile. In un campo magari come quello di oggi che sai che poi ti può sporcare le giocate o le letture, però anche là fa parte del gioco. Quando hai paura del campo devi essere ancora più attento e concentrato. Perché non è entrato? Perché non era in condizione oppure c'è qualche altro motivo? Lo ha voluto preservare interamente per la gara con il Cosenza? Non è entrato perché non è al 100% e in un campo come questo che ancora di più condiziona la corsa, la corsa e i cambi di direzione non mi sembrava forse, non la so sentita di rischiare il ragazzo perché nelle valutazioni che avevamo fatto sapevamo che il ragazzo non era al 100%. Partita fatta nel modo giusto, abbiamo concesso niente al Pescara, abbiamo avuto diverse occasioni oltre ai tre gol che abbiamo fatto, squadra molto attenta, molto a curare tutti i particolari. Abbiamo veramente concesso poco ed è una cosa che ci deve dare consapevolezza nel momento in cui si fanno le cose fatte bene e arrivano anche i risultati. In questo momento sono i tre punti perché effettivamente la vittoria ci voleva, era una cosa oramai che era nell'aria perché stiamo crescendo, crescendo, crescendo sia sotto l'aspetto atletico sia sotto l'aspetto del recupero degli infortunati e anche della consapevolezza delle cose da fare in campo e quindi la cosa che dà più soddisfazione è che siamo riusciti a vincere. Oggi comincia un nuovo campionato per l'Intella? Sì, è importante adesso ricaricare subito le forze perché comunque abbiamo una partita ancora fra due o tre giorni e quindi dobbiamo dare assolutamente continuità e prendere consapevolezza delle qualità di questa squadra e quindi andare avanti perché è ancora tutto aperto. Peraltro prossimo match del Pescara a mercoledì contro il Cosenza ha designato l'arbitro che sarà serra della sezione di Torino. Di questo e di altro ovviamente si parlerà questa sera alle 21 nel corso della trasmissione replay di Enrico Rocchi. Adesso noi scendiamo in serie di cambio in panchina per la Vastese dopo il 3-0 rimediato prima di Natale con il Matese. Sulla panchina aragonese al posto di Massimo Silva arriva Fulvio D'Adderio ma la ripresa, la squadra bianco-rossa, sarà attesa da un ciclo terribile di partite. Fulvio D'Adderio è il terzo allenatore della stagione della Vastese. Il tecnico molisano di San Martino in Pensilis succede a Massimo Silva cui è stata fatale la sconfitta di Piedimonte Matese per 3-0 contro la formazione campana. Una debacle troppo sanguinosa è che ha costretto la società aragonese al secondo cambio stagionale perché prima dell'avvio di questo campionato la Vastese che aveva scelto Massimo Agovino non aveva neppure iniziato col tecnico per richiamare in panchina proprio Silva che aveva fatto bene la stagione passata almeno fino alla sospensione dei tornei. In questa invece il ritorno aveva comportato anche degli aggiustamenti in corso d'opera durante i turni di campionato. Tanti giocatori arrivati per dare sostanza al progetto, il tutto favorito anche dallo stop novembrino che ha consentito di rivoluzionare alcuni reparti. All'addio di Gianluca Pollace hanno fatto da contraltare gli arrivi in attacco di Martiniello, Leandro Martinez e da ultimo Rossi. A centrocampo la fisicità di Meola in difesa la duttilità di Nicolas Lenoci. Con ogni probabilità però è stato proprio il periodo di stop forzato in cui la Vastese ha dovuto allenarsi, giocare e recuperare due partite a far capire che l'avventura di Massimo Silva poteva terminare. I pareggi con l'Agnonese ma soprattutto quello di Aprilia, seppur in inferiorità numerica, hanno bloccato la rincorsa di una formazione che era partita già col meno uno in graduatoria e che alla seconda giornata aveva potuto beneficiare dell'errore del Giulianova che aveva schierato Balducci squalificato senza accorgersene. Questo aveva consentito di trasformare il pareggio sul campo in vittoria per 3-0 a tavolino. Ecco perché gli 8 punti, che sarebbero 9 in realtà, ma frutto del successo col Pineto, di quello proprio con Giulianova, e dei pareggi nei recuperi e con Rieti sono un bottino troppo misero per una formazione che seppur non doveva lottare per i primissimi posti, comunque non era stata costruita per un torneo di sofferenza. Ed ecco allora il nuovo cambio. Arriva Fulvio D'Adderio, 60 anni, un vice allenatore di Roberto Muzzi in Serie B ad Empoli ed una lunga carriera tra C e D che ha formalizzato qualche ora fa l'intesa con il club. In Abruzzo allenato a Giulianova, tra le altre esperienze ci sono quelle con San Benedettese, Venezia, Spezia, Foggia, Catanzaro, Torres, Fermana, Monopoli e Manfredonie. A lui spetterà il compito di risollevare una vastese che al netto della gara in meno da recuperare col Castelfidardo alla ripresa sarà attesa da un ciclo terribile. In rapida sequenza i Biancorossi affronteranno il campo basso all'Aragona, il notaresco al Savini e il Castelnuovo ancora tra le muramiche. Un trittico terribile con le prime della classifica che deve rilanciare le ambizioni di una squadra in cerca di stabilità. Parliamo di ciclismo adesso, vigilia di Natale nel segno del ciclo cross a Sant'Egidio alla Vibrata in occasione del Gran Premio Abmol Trofeo Cascioli-Rent. Protagonisti due abruzzesi Gaia Realini e Lorenzo Masciarelli che ascoltiamo subito dopo le loro prove. L'idea è stata una gara veloce, è stata molto dura, abbiamo combattuto i primi due o tre giri io e la Bulleri, poi ho provato ad allungare, è andata bene, diciamo che la gamba rispondeva bene e alla fine sono riuscita a vincere. Ti è mancato il testa a testa con la Baroni oggi? Eh sì, diciamo che è mancata la nostra solita battaglia, però purtroppo lei non è venuta e abbiamo battagliato con un'altra ragazza, quindi è andata bene lo stesso dai. E anche il campionato italiano è simile a questo, sarà molto piatto però da spingere e quindi vedremo dai. Una gara è stata bellissima, durissima anche perché un circuito a volte così piatto sembra banale ma invece è davvero difficile perché appunto un piccolo errore può farti perdere molti secondi e soprattutto prendere vantaggio su degli atleti che comunque erano molto forti è stato difficile. Una stagione, diciamo, c'è un po' peccato per questa stagione che è partita bene, con buone speranze, ma il Covid purtroppo ha fatto annullare qualche prova di Coppa del Mondo e ci dispiace molto per questo. Però sono molto contento che l'Italia riesce a portare avanti il Supercross come sta facendo, anche se è zona rossa, anche se ci sono molti problemi, ma i organizzatori comunque riescono a portare avanti appunto queste competizioni che appunto è il mio sport. E quindi davvero un grande grazie a tutti gli organizzatori che riescono ancora a portare avanti il Supercross nonostante questo grande problema che c'è. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo che i contributi che avete visto sono disponibili on demand sulla piattaforma YouTube e anche sul nostro sito web www.tv6.it oltre che sulle nostre pagine social. Prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19, grazie per la cortesia attenzione e buon proseguimento di giornata. Grazie a tutti.